Sono uscita a fare la spesa, a Daria, c'è musica, un giro per Roma, è bello così non ho l'inquinamento acustico delle bambine, musica, ho sentito musica, non sento urli, tra l'altro ce l'ho anche per un po' perché c'ho uno, andate piano, andate piano, c'ho dieci persone davanti a me, piano, piano, non c'è fretta, non c'è fretta, non è che c'ho fretta di tornare a casa dai bambini, no, questi, niente, purtroppo invece ci stanno mettendo poco, anche se adesso ci stanno mettendo poco, quanti sono davanti a me, uno, due, tre, quattro, cinque, cento persone, dai, non è male, no, io sto qui e faccio la fine, sento la musica.